Parlare di rispetto, imparare l'ascolto e soprattutto imparare a riconoscere la violenza e dunque capire come comportarsi di fronte ad un caso di violenza di genere. Questi alcuni degli obiettivi del progetto Scuola di Rispetto. Un progetto promosso dal Centro Antiviolenza di Caltanissetta Galatea il Tulipano, in cui si ritrova l'impegno e il lavoro dell'associazione Galatea Ollus. Si tratta infatti di un'iniziativa che sarà rivolta agli alunni delle terze classi delle scuole medie, ma anche ai figli delle vittime di violenze che necessitano di un sostegno scolastico. 3.900 euro la cifra che verrà impegnata per tale progetto e che arriva dalle somme a cui rinuncia rispetto alla sua retribuzione da Presidente del Consiglio Comunale Leila Montagnino, destinate da attività di interesse sociale. Noi vogliamo ringraziare la Presidente Leila Montagnino per aver pensato al Centro Antiviolenza e aver devoluto questi fondi al nostro progetto Scuola di Rispetto. Il Centro Antiviolenza insieme al coordinamento contro la violenza sulle donne da anni si occupa di prevenzione nelle scuole con dei progetti proprio finalizzati a portare avanti i valori della parità di genere, delle pari opportunità nelle scuole per prevenire la violenza sulle donne. Quest'anno vogliamo indirizzare con la nostra attenzione in particolare alle scuole medie. Infatti questo progetto prevede il nostro intervento nelle scuole medie. è anche un progetto di sostegno del percorso scolastico, anche pomeridiano. Speriamo che il nostro ambito non si fermi a questo. Speriamo anche di poter attivare questi progetti nelle scuole superiori, come abbiamo fatto gli anni precedenti, perché siamo convinti che lavorare sulla cultura e sui ragazzi è l'unico strumento valido per prevenire la violenza sulle donne. Occorre conoscere la violenza e saperla identificare e poi sapere reagire anche prontamente conoscendo quelli che sono gli strumenti che esistono sul nostro territorio e la rete di sostegno alle donne che è messa a disposizione dal centro e dalle istituzioni proprio per garantire l'uscita dal ciclo della violenza. Intanto prosegue l'attività sul territorio del centro, sostenendo e assistendo le donne vittime di violenza. Le utenti possono contattarci al 380-1929-687 per richiedere un consiglio, anche per chiedere aiuto con il sostegno. Il centro offre poi un percorso sia di sostegno psicologico che di consulenza legale per le donne e per i loro figli. Il centro offre poi un percorso sia di sostegno